Pino Cangemi e Laura Cartaginese, candidati per la Lega alle prossime regionali a consigliere, hanno infiammato la loro scesa in campo alla Dispoli, sostenuti dal sottosegretario Durigon, il sindaco Alessandro Grando e il ministro a lavoro Matteo Salvini. La sala piena ha ascoltato i progetti dell'attuale consigliere che si è detto pronto a contribuire per la realizzazione di un ospedale alla Dispoli. Il nostro impegno sarà affinché ci sia un presidio ospedaliero in questo territorio che è carente di un'assistenza sociosanitaria importante e per questo ci batteremo. Sì, devo dire sì, alla Dispoli specialmente c'è tanto calore, c'è tanta amicizia, tanta voglia di cambiamento, ma devo dire che lo stiamo riscontrando in tutti i comuni della provincia e nella città di Roma, quindi sono soddisfatto. Matteo Salvini si è complimentato del lavoro di Grando e ha dato una carica di entusiasmo per far vincere il centrodestra. Però se vinci anche la seconda volta vuol dire che la gente ha riconosciuto quello che hai fatto. In più occasioni, soprattutto perché noi ci aspettiamo dalla Regione Lazio a guida Rocca che finalmente venga presa in considerazione quella che è la principale richiesta del nostro territorio, non solo di la Dispoli ma di Cerveteri, di Fiumicino, quella di avere finalmente un ospedale al servizio del litorale a nord di Roma. E noi, come già detto, siamo disponibili a mettere a disposizione gratuitamente per la Regione un terreno dove potrà essere realizzato questo ospedale. Per questo noi stiamo sostenendo due candidati che sono Giuseppe Cangemi e Laura Cartaginese perché hanno preso a cuore questa nostra richiesta e si sono impegnati a portarla avanti insieme ovviamente alla Lega e a tutti gli altri partiti che compongono la coalizione di centrodestra. È una priorità della questa cittadinanza, ma è una priorità che il sindaco Grando mi rammenta quasi giornalmente. Abbiamo già fatto un tavolo di preparazione per capire dove ricepire queste risorse. C'è tra le tante possibilità quella di fare una project financing con Linear proprio, quindi dove Linear potrebbe costruire questo terreno, dove il sindaco metterebbe addirittura a disposizione il terreno per poterlo costruire e la Regione che si deve fare a capo. Ecco, questa è una filiera che possiamo attuarla a breve quando finalmente conquisteremo questa nostra Regione. Vinceremo, governeremo bene e all'interesse di tutti.